Grazie. No, Ministro, non è possibile a punto di vista regolamentare, si deve attenere alla risposta rispetto al quesito del deputato collega Boff. Rispondendo all'interrogante, e sono sicuro che all'interrogante interesse... Basta! Il Ministro sta rispondendo all'interrogazione attuale. Prego, prosegua, Ministro. C'è il campo largo nervoso oggi pomeriggio. Voglio rispondere all'interrogante. Colleghi deputati, dovete ascoltare il Ministro esattamente come noi abbiamo ascoltato tutte le interrogazioni che fin qui sono state interpretate dai colleghi deputati. Prego, Ministro, prosegua. Se mi permettono di rispondere all'interrogante senza innervosirsi,